Presidente Blasioli, dona il tuo velo. Avete pensato a un'iniziativa davvero originale per andare incontro a quelle donne che nel giorno più importante della loro vita indosseranno un abito da sposa che ha un costo e che non tutti purtroppo possono permettersi di acquistare? Eh sì, è il segno dei tempi. L'iniziativa è davvero originale, nasce da un'associazione molto attiva sul territorio, un'associazione di Montesilvano che si chiama Iside, che si è occupata in particolare della violenza di genere e ci ha lanciato questa opportunità, cioè dare uno spazio in comune di tre giorni, e noi abbiamo scelto l'Aurum per questo, in cui le spose del Pescarese possano donare il proprio abito, ecco perché dona il tuo velo. I giorni saranno dal 27 di febbraio al primo di marzo, presso l'Aurum, dalle 15.30 alle 19.30. Poi ci sarà una seconda iniziativa che sarà molto più vivace e colorata, in cui avremo tantissimi ospiti che per adesso però non annunciamo, e in cui doneremo gli abiti che abbiamo raccolto in questi tre giorni alle spose meno fortunate della città. Ricordiamo che il comune, oltre ai matrimoni sulla spiaggia, prevede anche il matrimonio proprio celebrato nella sala della giunta del Consiglio Comunale e anche all'Aurum dove raccoglieremo appunto questi abiti. Quindi insomma le possibilità sono molteplici, però ecco il primo problema nasce proprio dall'avere l'abito, che è molto costoso e ci sono veramente tante coppie che non se lo possono permettere. Voglio dire che questa iniziativa che è praticata sull'esempio di Santa Rita da Cascio, in un certo senso è un'iniziativa che rende questi abiti anche più emozionanti, anche da parte delle persone che le indossano, che sanno che quell'abito ha reso fantastica già una giornata di altre spose e ora renderà fantastica la loro giornata.